Questa sera parliamo di una cosa che amiamo tutti, le belle macchine di una volta che avranno meno tecnologia, forse perché non è detto di quella attuale, ma sono splendide e hanno soprattutto questo fashion 80 anni, questo gusto del legno, del cuoio che è cuoio, non è finto eccetera, bellissimo. E per parlarne, per una manifestazione che è arrivata alla ventesima edizione abbiamo con noi il Nino Provenzale che è il presidente del Veteran Car Club Ibleo. Allora Nino, da quando iniziamo? La manifestazione inizia venerdì prossimo con pomeriggio con l'accoglienza dei partecipanti, già abbiamo più di 30 vetture iscritte, è un numero che a noi ci soddisfa perché i grossi numeri sono belli come immagine, ma all'atto pratico è difficile esistirli. Anche perché costano i grossi numeri. La cosa importante è però che i nostri partecipanti hanno tutte vetture certificate con targa oro, chiamiamolo oro dell'Asi, quindi che è il massimo riconoscimento che viene dato a un'attività, la conservazione e l'originalità. Mi dica un po', è prevista una specie di giro della provincia, no? Noi cominciamo intanto il venerdì pomeriggio che faremo un piccolo giro, abbiamo la fortuna di essere proprietari di un pullman storico del 1967 e quindi metteremo… Cos'è? Che barca è? Fiat? È un Fiat, sì. A bordo di questo pullman che può portare 40 persone faremo un breve giro della città con tutti i partecipanti e poi andiamo a cena. Il sabato mattina ci spostiamo verso Pozzallo dopo aver fatto una prova cronometrata qua a Ragusa e nel pomeriggio andremo a Isfica, tutto questo ai fini di conoscere meglio questi comuni, vederne… E poi di fare vedere queste macchine in giro, è ovvio. E le macchine ovviamente andare in giro. Abbiamo la collaborazione della Polizia Municipale, dei comuni, dove rimetteremo le macchine nei centri, nelle piazze, nei viali riservati. Quindi chiunque potrà andare a vederle da vicino. Certo, ma il nostro obiettivo è fare vedere le macchine… Poi tra l'altro io ho avuto occasione di parlare, il proprietario di queste macchine ama rispondere le domande e la gente gli chiede com'è, è bello, perché chiaramente è un mondo di appassionati. Ma si entusiasmano ed è bello avere queste macchine che non fanno rumore, ma fanno rombi che è ben diverso e all'interno salendo ci sono i profumi del passato. Quindi legno, quindi cuoio… È una sensazione molto molto bella. Lino mi dico un po', l'auto più vecchia prevista qual è? Ma l'auto più vecchia dovrebbe essere una Amilcar CGSS del 1927, una vettura sportiva che ha partecipato già ad altre edizioni, due posti secchi. Una vecchia, oggi la potremmo far somigliare a una Formula 1 di oggi. Ecco, allora si corre… C'è qualche grossa berlina? Berlina sì, ci sono Lancia Augusta, ci sono delle vetture altri tipi, Lancia, Lambda. La Lancia Lambda? Dovrebbero venire, almeno hanno confermato la partecipazione. Ma certo, chi ha una Lambda la tiene come una figlia femmina, perché non c'è altro modo. Sì, ma queste vetture, contrariamente a quanto si può pensare, possono affrontare dei lunghi percorsi. Sì, sono un po', non molto comode, diciamo, rispetto al criterio attuale. A quelle di oggi, dove abbiamo il servosterzo, la frizione automatica, il cambio automatico. Ovviamente non c'è l'aria condizionata. Non c'è l'aria condizionata, però speriamo che la temperatura della prossima settimana ci aiuti a far arrivare queste macchine. Mi dico un po', lei che è, oltre al Presidente, un addetto e un lavoro appassionato, c'è anche una manifestazione come quella, il nome ufficiale della manifestazione qual è? È Autogiro della provincia di Ragusa. Perfetto, una manifestazione come l'Autogiro della provincia di Ragusa, edizione numero 26. È anche un'occasione, credo, purtroppo non ho una macchina d'epoca, per i proprietari, eccetera, eccetera, anche di scambiarsi opinioni, sapere dove si possono comprare certe cose o no? Sì, ma intanto il simbolo più bello di questa manifestazione è l'amicizia. Il rivedersi con tanti altri amici e partecipanti che magari si è incontrati in occasione di altri raduni, ovviamente avvengono scambi di opinioni, confronti, possibilità di informazione dove reperire mezzi, che oggi si trovano facilmente. Non è un mondo difficile. Assolutamente, ma come mi diceva, una manifestazione del genere, che ha anche le prove econometrate, eccetera, non è che solo perché vanno più piano non è nel rispetto rigoroso dei tempi e tutto quanto? Sì, senz'altro. Noi, la manifestazione che è scritta a calendario ASI e fa parte del trofeo cronometri beccanici, non elettronici, abbiamo avuto il piacere di avere 12 manovelle d'oro. Significa che su 26, 12 edizioni di questa manifestazione sono state gratificate da questo premio che viene dato alla migliore manifestazione a livello Italia. Quindi è già tutto dire. Io ricordo un anno ho intervistato il presidente del, credo, del registro storico, una cosa del genere, e mi diceva che effettivamente è curata nei particolari minimi. Ma poi ci sono, credo che qualcuno di queste macchine, quando viene trovato una che aveva fatto la Targa Florio, la Mille Miglia, o qualcosa del genere. I partecipanti non sono sempre uguali, si scambiano, ce ne sono di nuovi, ne vengono altri, eccetera. A proposito, anche da fuori Sicilia? Da fuori Sicilia sì, ci sono due equipaggi che vengono dal napoletano. E poi mi pare Malta anche. E Malta li abbiamo avuti l'anno scorso, quest'anno hanno fatto altre scelte, sono venuti alla nostra manifestazione di aprire. Aprire era quella delle moto, no? No, aprire delle auto, facciamo noi l'apertura, la primavera, nel barocco ebleo. Ma so che c'è anche per esempio un equivalente anche per le moto. Per le moto abbiamo un'afferenza di Maltese che è incredibile. Sì, sì, mi ricordo, è venuto il signore Caltagirone. Sì, Luca Gisbonda. Esatto, Luca Gisbonda racconta perché le moto hanno lo stesso fascino, anche le moto d'epoca. Bellissimo. Bellissimo. Le moto hanno il rombo già è fantastico. Il rombo della moto, il tipo di frizione, il gucci con il disco della frizione è grande. Il cambio, l'anticipo, il regolare, l'alzamalvole. Piace anche a lei, eh? Eh sì, certo che sono belle. Allora, andiamo verso... Dunque, dicevamo, da venerdì a domenica, ed è anche un'occasione per un incamico, per far sì che vengono delle persone in provincia, vedono le nostre donne, mangiano nei nostri ristoranti, fanno la visita dei nostri, bevono il nostro vino perché uno dei concorrenti è sempre uno dei dirigenti, è sempre il mio caro amico Romolo Buccellato, che saluto. E lui ci sponsorizza con il vino. Saluto da... Ma quello che è importante, credo, il punto fondamentale è conservare una memoria. Perché oggi in quelle macchine il problema ti si mandano, è collegata, no? Nel senso che tu con la macchina, mentre guidi puoi, non ti dico vederti il web, ma quasi. Invece quelle macchine tu guidavi e ti spostavi. Sarà un fascino fuori modo, ma è un fascino straordinario. Le vetture servono, queste auto, oltre a gratificare la nostra passione, servono anche per ricordare il passato. Infatti, quando noi ci fermiamo e diamo la possibilità ai cittadini di vedere le vetture da vicino, di aprire gli sportelli, di accomodarsi per fare delle foto, eccetera. La cosa che sentiamo ripetere più spesso, come questo l'aveva mio nonno, come questo l'aveva mio zio. E quindi ecco il ricordo, la memoria, che noi cerchiamo di portare avanti, mantenendo questo parco di automezzi, e incentivare anche la raccolta, perché fino ad oggi si riescono a trovare anche in alcuni garage dei pezzi molto interessanti. Certo, io una volta ho guidato, molto vecchia, e mi è piaciuta da matti, con guida a destra, un'Ardea, che è una di quelle che ci sono... Bellissima, l'Ardea, una vettura a sto vecchio. Era una macchina straordinaria. La ricordo da bambino anche, mio padre che guidava l'Ardea ogni tanto, ma ricordo l'Ardea e un'Alfa 1300 particolare. Ma l'Ardea aveva questo, poi il fatto della guida a destra, ricordo di un tempo, in cui era più importante avere il cilio della strada, perché il traffico era quello che era. Ma era una prerogativa di Lancia, delle auto con la guida a destra, era più signorile. E poi non dimentichiamo che Lancia è stato sempre avveniristico, tutte le innovazioni poi usate da tutti le ha fatte Lancia. La Lancia Ardea è un'auto che ha il motore a V, è stata una delle prime. La Lancia Augusta è stata una delle prime con la carrozzeria portante. La Lancia Ardea ha cinque marce e siamo nel 1951. Certo, ci sarà anche qualche Appia, suppongo, no? A proposito di Lancia. Altra macchina bellissima. L'Appia è pure un'altra vettura molto bella. Perfetto. Allora, Nino, andiamo a chiudere, ripetiamo, da venerdì a domenica, finale al solito, suppongo, con la cena, col pranzo della domenica. Io mi complimento, ci diamo appuntamento, visto che abbiamo superato i vent'anni all'edizione numero 50, dobbiamo fare le nozze d'oro. Eh beh, ci proviamo. Non mettiamo fine. Non mettiamo limite. Comunque, di sicuro, scusi, la strada è chiusa o è aperta? No, no, aperta il traffico perché per regolamento le auto non possono superare i 40 chilometri. Perfetto, bene. Quindi, da venerdì sera, prima a Ragusa, poi nelle varie piazze, poi lungo sul litorale, questa occasione meravigliosa di vedere qualcosa davvero, il fascino non solo visivo, ma anche olfattivo. Gli odori, gli odori sono bellissimi. Gli odori, che sono davvero eccezionali. Grazie al Presidente, al Veteran del Club Ebleo, e appuntamento da venerdì prossimo. Grazie e buonasera. Buonasera, grazie.